Come far mancare in epoca Covid l'augurio a medici e infermieri? A nome loro vi chiedo però, invece di decantarli come eroi, rimboccatevi le maniche per una sanità migliore, che valorizza in motivi chi è stanco di lavorare in ospedali tramutati in aziende, che sani le differenze di assistenza locali e sociali e faccia finalmente basta con gli sprechi. A tutti, buon Natale.